Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale qui con voi Oggi sono qui nella nuova modalità chaos ragazzi quindi dalla durata doppia rispetto Al solito per farci una bella paita ragazzi nuketown dominio chaos c'è una durata raddoppiata Possiamo provare a fare un numero di kill non lo so inquantificabile sinceramente Cioè veramente secondo me se riusciamo a fare una partita buona comunque Possiamo toccare 200 kill in questa partita perché appunto dura al doppio Quindi proveremo voglio giocare con l'ICR tra l'altro raga non so perché ma oggi avevo voglia di giocare con l'ICR Ho detto minchia da una vita che non ci faccio un video e ci ho giocato un po' prima minchia troppo forte l'ICR È troppo preciso poi è un'arma affascinante l'ICR perché non avendo rinculo è pulita No è un'arma proprio senza sbavature non so come spiegarvi no Cioè è proprio perfetta è elegante come arma Quindi è veramente figa è veramente figa proprio un'arma clean E quindi la utilizziamo è la dà una vita che non la utilizzavo e soprattutto che non la utilizzavo in un video Cioè all'inizio del gioco la usavo fisso perché era la bestia di Cristo Poi dopo ci sono state nuove armi eccetera eccetera però all'inizio la usavo un sacco Ad ogni modo ragazzi ce la giochiamo un po' piano sinceramente sia perché abbiamo l'ICR sia perché voglio pigliare le streak Perché se voglio fare 200 kill devo giocare un po' per vedere le streak non è che possa lanciarmi a caso Siamo subito nella casa l'ICR alla mano Ah c'è già uno che va lì Ho FMJ tra l'altro vi dico la verità Che sono sgravissimi No no quel vergine là sopra gioca col cecchino raga Vabbè che l'ICR è un cecchino quindi se capita che gli sparo lo fulmino probabilmente Vabbè raga Raga ma sono in tre che camperano là sopra minchia Lobby di mongoli abbiamo già beccato dai ci sta Aspetta che me lo metto qua sotto con FMJ li squaglio se tutto va come deve andare Li odio li odio tutti Li odio tutti cioè è impossibile non odiare questa gente cioè Stanno camperando su quella casa col cecchino non li puoi uccidere È impossibile che devo fare Di altro perché ok uno è andato a fare in culo subito Ma sono in tre veramente ancora Passa pezzi di merda Sono tutti dico il cecchino raga Basta ok rompo lo spawn vediamo se si divertono Ma che lobby di malati raga No parole Ok ma vediamo se si divertono Vaffanculo raga Mamma che casino eh ve lo giuro Sapete proprio quelle lobby confusionali dove non capisci no Bene che bello lì c'è non si alza è proprio bellissima come roba È proprio Penso che sia l'arma più precisa della storia di code sapete È una precisione perfetta Ok stiamo prendendo A Non capisco Minchia ragazzi no non è possibile Non è possibile Però cioè la parita durerà una vita quindi c'è tempo per Ripigliarci a fare tutto quello che ci meritiamo Mi pare di non perdere la composure Anche se è molto difficile considerano che ci sono tre malati che campano in quella casa Io ho anche gli FMJ ma non serve a nulla a quanto pare Ok Non so cosa fare O li provo Li provo a andare a prendere da dietro C'è l'unica cosa che mi viene in mente raga No questo mi ha ucciso con il mitraglione Vanilator vai Ok Financiamo sullo spawn glielo Devo rompergli questo spawn del cazzo Una volta per tutte Devo Devo romperglielo Ok forse glielo ho rotto Oh Rotto lo spawn Coglioni maledetti Via Vediamo lo spawn qui Ok Perfetto Questo era quello che avremmo dovuto fare Dall'inizio Ma questo volepevo tornare qui raga E' ossessionato da quel punto Oh un po' di streak No 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 Ok Dai che ho quasi anche le altre Ti prego non lo ammazzate mi ora Ottimo full streak Ma me lo ciucciate tutti 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 Pezzi di merda camperoni Maledetti schifosi Muori Muori anche Minchia l'ICR E' bellissimo Cioè capito Tu mini in un punto Boom Non devi nemmeno Curarti del rinculo Perché non esiste Cioè Puoi letteralmente togliere la gente Da qualsiasi head glitch Questi non mi sa che Mi sa che non quittano raga Tra l'altro Sono di quelli tipo testardi Meglio così Anche perché tanto Giocando così Non hanno bisogno di quittare Cioè Cosa ne frega di quittare Stanno camperando come le merda Ok Dai streak però Fatele qualche kill Ho anche messo l'elicottero D'assalto Per insomma Per avere qualcosa di diverso Ma Gli hanno battuto Gli hanno battuto Questi sono proprio i peggiori avversari Che si possono trovare comunque Ok Dai In confronto Niko G era un santo Raga vi giuro In confronto Niko G era uno degli optic Ok No 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 Che culo Cazzo 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 No no però Ma che cazzo è Ma è veramente Una lobby di malati Questa qua raga Cioè non c'è una cosa Che possa andare a mio favore Ne hanno sempre una Una pronta Per rompermi i coglioni Assurdo Comunque possiamo arrivare Cioè non siamo indietro Sapete Praticamente non mollare Fa un culo Pippone C'è un altro tipo Merda Merda Ho fatto l'ultra uccisione Pro cavolo Le altre streak Ok A me mi piace sta roba Che pigliano comunque le bandiere Almeno non è morta la partita Ok Amma raga Ma 55 key E proprio Ma sai di cazzo Sta per finire Mi sa Sta proprio per finire Ok qua c'è uno che passa Morto Se solo non fossero così strani Questi qua Se solo il gioco Non gli desse la possibilità Di fare Le merde All'enesima potenza Ah Ora si iniziano a muoversi Comunque Si iniziano a muoversi Gli lascerei B comunque Sinceramente Nell'auto del go Che premia sempre Niente non premia Se c'è Optic Quello si chiama Optic Nel nome raga L'ho detto che sono gli Optic Sti qua Con il mitraione Sulla casa Eh Amma che pezzo di schifo Vai affanculo Ok Lasciamogli B Non tocchiamoglielo Ah ma c'è pure uno lì Guardalo Che carino Cioè no è assurdo Non si Non hanno proprio intenzione Di schiodarsi da lì eh Non hanno proprio intenzione Di farlo Stanno pigiando B Gli alleati Non ce la fanno proprio Gli alleati A fare un po' I furbi eh Ok Vaffanculo Anche io che non carico Sono veramente un bel coglione Ok Stanno pigiando B Ma non la pigiano Mi sa Ok Mamma mia Con la mitraglietta Va bene Va bene Va bene Primo side Sta per finire Io sono a 66 kill Eh Non so se riuscire A toccare le 200 Però ci possiamo provare Abbiamo preso veramente Poche streak Sapete Questa partita Questo è il vero problema Però che cazzo Voglio fare Robidi questo tipo Veramente difficile A prenderle Merda Merda No Mi ha dato un colpo Cosa cazzo Mi ha ucciso Vabbè Assurdo Ok Bella Quanto siamo 74 Non è ancora finito Il primo side Dai non è malissimo Cioè questi qua Sopra Quanto li sto odiando Non capite raga Li detesto proprio Ma non è proprio schifo Poi capito Non so Sanno fare un cazzo Se affacciano che Vengono killati Costantemente Guardali Sta finendo il primo side Dai basta Va bene Quello si chiama Optic Ah ecco Optic Nade shot Vabbè Insomma Una scoppiezzatura Del Di nade shot Il nome Vabbè Dovevano cercare Di non fargli tenere Sta cazzo Di 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 flag Perché Il problema è proprio Che tengono sta zona In questa zona Sono impossibili Da domare Cioè non si capisce bene Sono veramente Indomabili Ah Comunque ho levato E strazione rapida Ragazzi Sto giocando senza Sto provando A giocare senza È tutta la parità Che vanno là sopra Proprio È una cosa assurda 82-20 Questo primo side Raga Quanto fanno dall'altro lato Quanto fa Emil 36 Possiamo farcela raga Ma semplicemente Pregnare delle streaks Pregnare delle streaks Sarebbe fatta Però non è facile Ora do il massimo Mi impegno Abbiamo fatto veramente Una bella roba Con l'unilator Questo ho rotto Proprio cagato No in realtà Era meglio L'azione dell'altra azione Che abbiamo fatto Con l'unilator Però anche questo Non è stato male Ecco Vabbè Vediamo cosa riusciamo a fare Ragazzi Sto secondo side Vorrei soffiarmi il naso Ma non posso Perché perderei tempo Voglio andare di nuovo sopra Figurati Ok Una bella doppia C'è un cane Lo mi sta cagando Non so perché Basta Cane di merda Comunque è assurdo Sto gioco Da troppe stronzate In mano alla gente Veramente Anche con lo scudo Di prima Sto pensando Che mi ha ucciso Di streak Lo scudo a cazzo Di cane Piazzato lì Vedete che mi sa Che me la campero Qui raga Un po' Io le streak da qui Cioè loro campero Perché io non devo Cioè No 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 Abbiamo rotto Lo spawn di A Ma è inutile Tutto Ma pigliano Ma arrivano di là Ragazzi Siamo fottuti C'è qualche Hanno preso C Che i primi streak Prese Così io tiro Lo spawn Vedete che faccio Vedete che faccio Ora raga Uso il mantis E gli impedisco Di andare sopra Quella casa Vedo che ci vanno Elicottero Guardate me la batto Vabbè anche inutile La lobby è tutta inutile Cioè Giocono veramente Da schifo Sti qua Ok Adesso non riesco a prenderlo Mettiamo lo spawn Qua al centro mappa Ok Abbiamo superato le 100 Eh Devo essere più rapidi Però eh Quella di Drury Se n'è già andato Raga Tempo scaluto Per la squadra di Drury Ma quanto dura 5 secondi Minchia che streak Del cazzo Per Dio Eh Quello non me le abbattono Guardali Questo stronzo di merda Le abbatte Non si può giocare così Cioè È impossibile Guarda Tutti la so Le mie streak Vengono abbattute Cioè Tutto fatto a posto Per non farmi fare nulla E non mi hanno fatto Letteralmente niente Raga Non mi hanno fatto kill Non capisco Veramente Non riesco a capire Quanto siamo 118 raga C'è ancora tanto tempo In realtà Quindi non è Non è male Come situazione Però Vorrei assolutamente Pgliare altre streak Ho solo 6 colpi Ecco qua Che moriamo Perché non ho colpi Cristo Dio È tutto contro di me È veramente tutto contro di me Dai 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 Riesco a pigliare le altre streak Ragazzi Le piglio Le piglio Ti giuro che le piglio Niente C'è Optic nail shot Quel vergine Coglione Con il mitraglione Lassopra Fuori Non sono in Italia Sono tutti stranieri Dal primo all'ultimo Gli italiani Non sono astirelli Gli italiani Gli italiani giocano In maniera strana Ma non astirelli Questi sono proprio Dei pezzi di schifo Altrimenti C'è gente che rovina il gioco Quelli che giocano così Ok Possiamo andare Ma i colpi passano Ok Cioè qua c'è sempre Questo cazzo di robo qui Non è possibile Attento che ti scapoccio Pezzo di merda Quello scudo La macchia da guerra pure Buo ragazzi Guarda la situation Guarda la situation 131 kill Siamo a 300 punti Dovevi arrivare a 400 È dura Ho provato a fare delle altre streak Ma è impossibile raga Ormai il tempo è finito Purtroppo 145 kill Raga C'è anche una torretta nemica Boh Oh my god Oh my god Questo fuoco è continuo Cazzo Ho fatto un uccisione a catena Ho fatto un uccisione a catena Niente niente 158 raga Siamo a 361 punti Non siamo così lontano Dalle 200 Non siamo per niente Così lontani Me la faccio pigliare A quel tipo che c'è lì Non è veramente uno Peggio dell'altro Ragazzi Sti qua Ma come giocano Tutti a fianco 165 e 138 Non lo pigliatevi Vi prego Che quanta gente Che c'è qui Stiamo a 170 raga 170 kill 387 punti 100 sveccato Cazzo Ce l'avano quasi Eh vabbè Eh vabbè Ragazzi Io direi che il video Può finire qui Mi dispiace Non essere riuscito A fare appunto Le 200 kill Però ci siamo avvicinati Tanto Purtroppo Una roba Veramente di cani Di merda Lasciate un like Ragazzi Ci becchiamo Alla prossima Bella Ciao 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 Ciao